Non lo voglio io la guerra, sono già arrabbiata a vedere quella gente lì che muore. La guerra è una bestiarità e io l'ho fatta per tre anni e so bene come succede e cosa succede. È un messaggio di pace quello che si è alzato dalla casa di riposo Emilio Fontanella di Rottofreno, grazie all'aiuto degli operatori è stato girato un video divulgato via Facebook. Anche il direttore della struttura gestita da Sereni Orizzonti, Xesia Nastoico di origini albanesi, ha portato la propria testimonianza. L'ho vissuta sulla mia pelle perché i miei genitori stessi sono andati via dal nostro paese per questo motivo. Capisco benissimo e sono molto vicino a questa nazione. La struttura di Rottofreno è particolarmente sensibile al tema, anche perché fra le lavoratrici ci sono donne di origini ucraine. Voglio fare un appello anche ai amici italiani. Lo so che siete generosi e accoglienti nei confronti del popolo ucraino. Lo so che fate tanto, ma tutti insieme dobbiamo fare di più. Dobbiamo chiedere che sia messa fine a questa guerra inutile e ingiusta, che porta solo distruzione e la morte. Preghiamo per la pace in Ucraina e in tutto il mondo. Preghiamo per la pace in Ucraina e in tutto il mondo. Preghiamo per la pace in Ucraina e in tutto il mondo.